L'anello c'è ed è un regalo di ambra. La notizia è confermata da Massimiliano Allegri alla fine dell'intervista di novantesimo minuto, in occasione dell'ennesimo trionfo bianconero sul Sassuolo, squadra surclassata per 7-0 con una tripletta del bomberissimo, Gonzalo Higuain. Colto con umore alto, visto il fatto di aver superato il Napoli momentaneamente procedendo verso il settimo scudetto per la vecchia signora, Massimiliano Allegri si è sbottonato e ha rivelato che l'anello è un regalo di ambra Angiolini. L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è pronto alle nozze con l'attrice ambra Angiolini? Potrà fare dispiacere ai fan della coppia ma questo evento sembra proprio da escludere. Lo ha detto chiaramente l'allenatore Livornese che l'anello è solo un regalo della bella attrice ma per adesso di matrimonio non se ne parla. L'anello? È solo un regalo di ambra, non abbiamo in programma di sposarci e io in nazionale? Assolutamente no. Non solo un matrimonio, ormai i nomi di Massimiliano Allegri e ambra Angiolini campeggiano stabilmente nel mondo del gossip. Ultimamente gli è stato anche accreditato una possibile gravidanza per ambra, ma in realtà l'entourage di Allegri ha smentito la notizia attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport. Una fake news come tante. Chi se ne frega.